Inizia il conto alla rovescia per il Festival Nazionale del Teatro Comico, un lavoro lungo un anno ma finalmente sindaco ci siamo. Anche quest'anno dopo il successo della passata edizione nel 2017 abbiamo registrato proprio qui a Sant'Omero circa 3.000 presenze con nomi importanti come Cirilli, Fubelli e Dado. Quest'anno si replica con nomi davvero di grande grido. Assolutamente sì, diciamo nell'ottica della continuità di questa amministrazione comunale riproponiamo il Festival Nazionale del Teatro Comico qui a Sant'Omero nelle serate dal 22 al 24 agosto, tre serate caratterizzate da un calendario di assoluto rilievo che vedrà interessare il palco in Piazza dei Curtis artisti della Comicità Nazionale del calibro di Alberto Farina, Oscar Biglia, Gianni Astone, Giovanni Cacioppo e nella serata conclusiva Teo Teocoli con la sua band e credo che questa sia una manifestazione che conclude un po' e costituisce anche il momento più importante del calendario estivo degli eventi santomeresi che abbiamo introdotto come amministrazione comunale, cioè quella della gratuità dell'ingresso e questo lo facciamo perché riteniamo che sia un momento di difficoltà economica per le famiglie e quindi per i nostri cittadini è un momento di spensieratezza necessario durante la pausa estiva e per i turisti è un momento per ospitarli qui a Sant'Omero e fargli visitare quelle che sono un po' le nostre bellezze turistiche è un'iniziativa decisamente importante che ha un'evidenza vibratiana di tutto rispetto in considerazione anche della storicità ma che va anche oltre la regione Abruzzo e oramai ha una canonicità nazionale. Il Teatro Comico di Sant'Omero è comunque una manifestazione che dà lustro e evidenza alla nostra terra e comunque alla Val Vibrata è un'opportunità all'interno di un'offerta che può essere considerata sicuramente turistica per chi in questo periodo soggiorna sul nostro territorio. Dunque vi aspettiamo qui a Sant'Omero dal 22 al 24 agosto alle ore 21 in Piazza dei Corti.